Nuovo attacco al territorio, a Frascati. Non bastava la strage degli olivi a Grotte Maria, sulla cui sorte non è che si sappia molto. Adesso per far posto al più grande vigneto urbano d'Europa c'è il sacrificio di altre piante d'olivo. L'olivo è una pianta protetta, protetta dove? Ai Takserf? Certamente no. Complimenti!